E' appena terminato il sopralluogo da parte dei tecnici della procura di Arezzo sul tratto della E45 ancora chiuso al traffico. Sopraluogo necessario per verificare se tutte le prescrizioni dettate dalla procura ad Anas per la riapertura condizionata di questo tratto e del viadotto Puleto che comunque rimarrà sequestrato fossero state rispettate. La comunicazione di Anas era arrivata in procura nel pomeriggio di lunedì e così il procuratore Rossi ha disposto all'esecuzione dei controlli. Dopo la verifica i tecnici dovranno stilare una relazione ed inviarla alla procura per l'eventuale via libera alla riapertura condizionata della superstrada. Solo traffico leggero nelle due corsie centrali con il limite di 40 km orari monitorato dagli autovelox. Oltre a questo un semaforo che regolerà il traffico e farà scattare il rosso in caso di movimenti anomali rilevati dai sensori. Anas ha infine sistemato questi tubi per far defluire le acque. Il viadotto però rimarrà sequestrato e questo potrà succedere anche se in un futuro non prevedibile ma sicuramente non lunghissimo venisse autorizzato anche il ritorno dei tir. Tutto questo sta accadendo ad un anno anche dal crollo della piazzola di sosta tra le uscite di Pieve Santo Stefano Sud e Nord. Anche qui dopo il sequestro la procura aveva lasciato ad Anas la possibilità di accedere all'aria per avviare i lavori ma le ruspe da queste parti non si sono ancora viste.